Il reddito di cittadinanza è una misura che ha fallito gli obiettivi per i quali era nata perché c'era a monte un errore dal mio punto di vista. E quell'errore era mettere nello stesso calderone chi poteva lavorare e chi non poteva farlo. Arriva con un sms la notifica della sospensione di una certezza mensile, il reddito di cittadinanza. Finisce così come le storie d'amore al tempo dei social per molti cittadini italiani l'erogazione del benefit mensile che per tantissime famiglie, soprattutto al sud, ha rappresentato negli ultimi anni l'unica fonte di sostentamento. Sono iniziati a circolare infatti già da qualche giorno messaggi informativi da parte dell'Inps e destinati a chi tra i percettori del reddito all'atto del primo agosto abbia superato le sette mensilità continuative da gennaio. Un provvedimento che dà esecuzione a quanto stabilito con legge di bilancio 2023 è sancito dal Governo centrale, prevedendo nello specifico per l'anno in corso la concessione di sole sette mensilità da espletarsi entro il 31 dicembre prossimo prima dell'abolizione definitiva dell'RDC a partire dal 2024. Io non credo che chi è in grado di lavorare debba essere mantenuto dallo Stato con i proventi delle tasse di chi lavora duramente, percependo spesso poco più di chi prende il reddito di cittadinanza. A margine dell'SMS si legge che il medesimo benefit continuerà ad essere erogato nella sola eventualità della presa in carico dei servizi sociali. Una disposizione che rimette dunque la questione nelle dirette mani dei comuni, in modo ancora più caotico, considerato che gli stessi centri per l'impiego della campagna hanno fatto sapere di non essere tenuti a segnalare ai comuni quante tra i percettori attualmente sospesi ma effettivamente occupabili si trovino nelle reali condizioni di disagio, tale da dover essere presi in carico dagli uffici dei servizi sociali. Un clima di palese confusione che in una regione, come appunto la Campania, investe circa un quarto del totale nazionale e che ha immediatamente innescato le reazioni del governatore Vincenzo De Luca, tra i primi a tuonare da tempo contro l'applicazione della misura grillina apostrofata come una grande truffa politica. Noi abbiamo fatto solo un grande errore, non abbiamo spiegato bene che il reddito in cittadinanza è una grande truffa, una grande porcheria di clientela politica, parliamo chiaro! E lo stesso De Luca in una recentissima intervista si sofferma sulle criticità relative alle modalità di sospensione decise dal governo, tali da ingenerare addirittura un trauma sociale. Inviare un sms per informare decine di migliaia di persone che da inizio agosto non avranno un aiuto è un trauma sociale che avremmo dovuto fare di tutto per evitare. Dobbiamo lavorare in due direzioni, la solidarietà innanzitutto per la povera gente vera e poi anche la trasparenza, fenomeni speculativi parassitari che vanno cancellati, ma in primo luogo la solidarietà.